Buonasera e benvenuti al TG di AC Milan Inside. Iniziamo subito le notizie di oggi con la questione allenatore e Lopeteghi sembra saltato definitivamente, mentre invece il Chelsea continua sulle tracce di Conte, mentre Pioli sembra sempre più vicino al Napoli. Parlando della questione infortuni, Kalulu ritorna finalmente in gruppo, mentre invece niente da fare per Jovic. Avete per caso letto il comunicato della Curva Sud? Nel caso ve lo racconto io. La nostra Curva ha deciso di scioperare in occasione della partita Milan-Genoa e di non esporre nessuno striscione. Voi che cosa ne pensate? Spunta un nuovo nome per l'attacco, ovvero Ennesiri, e si afferma che Zeroli, il giovane della primavera, potrebbe essere un'importante bandiera del Milan del futuro. Queste sono le notizie di oggi e come al solito io vi invito ad andare a leggerle tutte quante sul sito di acmilaninside.com.